Salve a tutti cari colleghi, benvenuti a questo nuovo video dal titolo La verità sulla ricerca a freddo. Entriamo nel merito ragazzi, soprattutto di quelli nuovi, mi scrivono, ma non solo nuovi, adesso entraremo nel merito un po' di questo aspetto. Funziona ancora la ricerca a freddo, il telemarketing, la ricerca in zona, eccetera eccetera, con una platea di più di 3.000 studenti che fanno parte della mia scuola di formazione, ragazzi, ho visto un po' di robe che voglio approfondire con voi. Mi presento velocissimamente ragazzi, perché ci sono tantissimi video dove lo spiego già, sono un agente immobiliare come te, so benissimo questi argomenti semplicemente perché faccio questo lavoro da 24 anni, l'ho fatto a un certo livello per tre anni consecutivi, primo team Remax in Italia per case vendute su 5.000 erotti agenti, da tre anni a questa parte, due anni e mezzo a questa parte, un'azienda di formazione con più di 3.000 studenti, aiutiamo gli agenti immobiliari a diventare top producer. Quest'azienda è esplosa semplicemente perché gli agenti immobiliari hanno compreso che la persona che insegna è una persona che ha ottenuto dei risultati concreti sul campo, non è una persona che non ha mai fatto l'agente immobiliare, non ha mai parlato con un cliente in carne ed ossa, no, io l'ho fatto per tanti anni e metto la mia conoscenza e le mie strategie a disposizione di tutti quegli agenti che vogliono investire in loro stessi nella mia azienda di formazione. Verità sulla ricerca, fate like al canale ragazzi, iscrivetevi mi raccomando. Allora, fare la ricerca freddo vecchio stile è una pessima idea. Io ragazzi quando ho cominciato a fare questo lavoro nel 1999 e è chiaro che la ricerca freddo era suoniamo i campanelli, guardi mi hanno detto che al terzo piano vendono una casa, mi sa dire a chi rivolgermi. Allora, è una pessima idea e dietro a questa modalità c'è un sacco di stress e frustrazione. Chi lo fa sa di che cosa stiamo parlando. È roba di anni 70, difatti chi proclama di farlo è una persona che non fa questo lavoro da 50 anni, per cui mi sembra abbastanza logica, è rimasto frizzato un po' al passato. Il concetto è che ha molto più senso parlare con persone che vogliono ascoltarci rispetto a persone che non vogliono ascoltarci, mi sembra abbastanza normale come discorso. Oggi il tasso di conversione a freddo tipo script come vi ho detto io è l'1%. Su 100 contatti che fate, l'1% vi dà un'informazione o è lui stesso che deve vendere. L'informazione può essere mi hanno detto che forse al quarto piano vendono, oppure sono io che vengo. L'1%. Ok? Per cui mi concentrerei in questo video su due suggerimenti che vi posso dare per andare a migliorare questo 1%. Perché attenzione, non è che vengo giù dalla montagna con la piena, cioè se io sono un agente immobiliare da tre mesi, è chiaro che non ho una lista dei clienti passati, non ho la possibilità di fare marketing, non ho la possibilità di fare tante cose, anche se ci sono delle cose che si possono fare anche a costo zero e che insegno all'interno dei miei percorsi formativi, trovi tutto nel link in descrizione se vuoi chattare con un mio collaboratore per capire qual è il prodotto formativo che ti può essere interessante. Però diciamo che esistono alcune cose che possono migliorare sensibilmente questo 1% che tengo qui. Allora, prima ipotesi, sei un agente nuovo sul mercato. Quello che devi fare è creare un presupposto. Mettere un piedino in casa del cliente e per fare in modo che la tua ricerca sia freddo, non prendiamoci in giro, ma almeno hai un presupposto per chiamarlo. Ok? Sappi che quello che succede banalmente, tu puoi decidere di fare una campagna di advertising per cui pubblicità cartacea, un volantino fatto in un certo modo, una delle cose che insegna quelli nuovi è questo, vi dico questo nel rispetto anche ragazzi che è dentro ai percorsi formativi, che ha investito i soldini, non vi posso dire tutto, vi dico, vi apro, spremete la mente se non avete voglia di investirli in formazione, vi do solo un presupposto, per cui magari creare un volantino di un certo tipo dove a seguito le chiamate. Potete fare il telemarketing, però fate precedere un qualcosa prima della vostra chiamata. E questa idea mi è venuta sei anni fa e io sono arrivato a Bologna nel 2015 in realtà, non è tantissimo ragazzi, prima lavoravo a 30 km, per cui io avevo questo, ero nuovo sul mercato, non avevo mai venduto una casa, non sapevo le vie, eccetera. Per cui come mi hanno venduto il sistema d'allarme? Me l'hanno venduto sostanzialmente perché in buchetta mi avevano messo dentro un volantino, un flyer, 30 secondi, metti di orologio, anche se non ce l'ho, per una grande novità. Quello che posso condividere ovviamente su YouTube per motivi organizzativi è l'1% forse di tutto quello che c'è dietro al mio mondo e quello che insegno nella mia formazione. Ma una bella notizia, 2, 3, 4 ottobre Bologna, ci sarà il vertice degli agenti immobiliari in Italia, il più grande evento in Italia. Mi avete chiesto a gran voce con dei messaggi, contatti, eccetera, che volevate qualcosa in presenza, una cifra abbordabile e io vi ho ascoltato ragazzi. Parleremo di mindset vincente, di come acquisire 6, 7, 8, 10 incarichi al mese, come utilizzare l'open house per trasformarli in un asset per vendere e acquisire, come creare un team che ti permette di staccare il tuo tempo dai guadagni e soprattutto le nuove frontiere del marketing del personal brand. Avremo degli ospiti davvero speciali. Questo evento era talmente importante per tanti agenti immobiliari che hanno proceduto immediatamente all'iscrizione. 2, 3, 4 ottobre sono aperte le iscrizioni, clicca qui sotto nel link e in descrizione per avere tutti i dettagli e per riservare il tuo posto. Ciao da Simone. Dove mi avevano allegato degli articoli del giornale locale dove parlavano di furti nella zona in cui abitavo, ok? E di conseguenza c'era quello, poi ovviamente c'era anche la soluzione che era il loro programma d'allarme, ma loro inviavano quel materiale, lo mettevano nelle buchette e a seguito di due o tre giorni chiamavano. Avevano creato un presupposto, per cui mi hanno venduto un'allarme, sia a freddo perché io non le conoscevo, ma creando un presupposto. La stessa cosa lo devi fare te, attraverso del materiale cartaceo. Questo se sei nuovo sul mercato. Che cosa ti puoi aspettare? Con una ricerca di questo tipo, per cui creando il presupposto puoi aspettarti che quell'1% diventi un 3%. E ti diciamo che è solo un 2% di più. No, ragazzi, è il 300% di più. E fidatevi che all'inizio ottenere il triplo dei risultati, ragazzi, aiuta un bel po'. Questo se sei nuovo sul mercato. B se non sei nuovo sul mercato, perché magari sei un agente con esperienza, ma per qualche malsano motivo stai ancora facendo la ricerca proprio a freddo a freddo. Allora, per farvi un esempio, voi immaginate di entrare in una struttura privata e vedere il primario dell'ospedale che dà lo straccio in terra. E vederlo subito dopo che prende il sacco delle immondizie e va a buttare lui il rusco. Cioè la persona di riferimento, la persona più importante di quell'ospedale è a fare attività delegabili a 7, 8, 10 euro l'ora. Ok? E voi che siete le persone più importanti per la vostra USPA, quelle che devono acquisire, e avete un'esperienza, magari avete anche un team, magari avete un'agenzia e state facendo delle attività, ragazzi, di routine che dovreste delegare. Ok? È da stupidi fare delle attività che potete delegare a 7, 8, 10 euro l'ora. Ok? Perché di questo si tratta. Noi con i miei studenti più avanzati, che hanno una struttura di questo tipo, non è che la ricerca a freddo non lo facciamo, ma non lo facciamo fare loro. Creiamo dei team telefonici di un certo tipo, creati in un certo modo. Ok? Con dei compiti, delle situazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Però è veramente da stupidi fare questa, da ignoranti. Non è un'offesa, ragazzi, per l'amore del cielo. Ma tu, questa roba, la devi delegare. Come in realtà dovresti delegare, come spiego, e devi diminuire il lavoro ripetitivo, come per esempio la ricerca a freddo, e aumentare quello creativo, che non significa dar di bianco o pitturare o fare queste robe qui, ma pensare quali sono quelle azioni che puoi fare che ti possono dare un grande risultato nel medio-lungo periodo a tipo di incarichi. Ok? Questo dovrebbe essere. Ok? Quindi la traiettoria è, dovrebbe essere questa per i nuovi, per, scusate, quelli con esperienza. Creare un team telefonico. Creare delle gare, in realtà, tutte le attività. Ok? Ricordatevi, per concludere questo video, ragazzi, e spero che vi sia stato utile, sia per i nuovi che per quelli con una certa esperienza, che tutti i problemi vengono annullati nel momento in cui tu riesci a creare dei processi dove è il cliente a fare il primo passo nei tuoi confronti, dove è il cliente che quando riceve magari una tua chiamata, eccetera, sai già chi sei. Il miglior modo per battere la concorrenza e cercare, insomma, di aumentare il fattore di conversione degli appuntamenti è presentarsi dalle persone non da perfetti sconosciuti, creando dei presupposti e facendo in modo di non essere uguale a tutti gli altri agenti immobiliari. Spero, ragazzi, che questo video vi sia stato utile. Ragionateci un secondo. Link in descrizione qui sotto, dove, se volete entrare in contatto con la mia consulente senza impegno per una call conoscitiva, capire se ci sono dei prodotti, dei servizi delle master adatte per voi, se volete crescere ovviamente come agenti immobiliari, o entrare nel merito anche di questi dettagli in maniera più approfondita. Altrimenti ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi, e statemi bene. Ciao, ragazzi.